Utile OP una volta constatata la presenza esterna minacciosa di Vettelgriffa ai 1.200.129.4 chiusi da una frazione in 14.300 metri alla conclusione l'errore di Vettelgriffa che lascia Allegra Loess in evidenza in fuga nei confronti di Adolf Findal che allarga suo Utile OP poi a centro pista Tower di Poggio con a sinistra Ayrton e Kappa Allegra Loess per fatti propri il raddoppio di Tommaso Di Lorenzo al secondo posto 8 metri 1.13.2 la media al chilometro gran bella vittoria di Allegra